Soddisfatto il centrodestra dell'approvazione all'unanimità in Consiglio Comunale del piano di assetto naturalistico della riserva d'Annunziana e dell'approvazione di tutti gli emendamenti presentati e predisposti con ambiente e vita. Si tratta di un progetto che Forza Italia sente un po' suo. Gli emendamenti che abbiamo proposto e che sono stati tutti accolti dal Consiglio Comunale, credo il voto unanime del Consiglio Comunale è un fatto quasi storico nella città di Pescara, rispetto al piano di assetto naturalistico della riserva d'Annunziana, è un fatto rilevantissimo perché abbiamo creato le condizioni per un'effettiva valorizzazione della nostra riserva. La riserva deve diventare un luogo che attragga turismo soprattutto da fuori città e da fuori regione. In questa maniera noi abbiamo creato le condizioni giuste perché questo possa avvenire. C'è poi la caratterizzazione ambientale delle concessioni balneari. Una delle anomalie, tra virgolette, contenute all'interno della perimetrazione della riserva d'Annunziana è la presenza di diverse concessioni balneari che in questi anni sono state bloccate in ogni attività proprio dal fatto di insistere nella riserva e dalle norme di salvaguardia che in qualche modo hanno governato in questi 18 anni in attesa che il Comune approvasse il piano di assetto naturalistico. Bene, da domani queste concessioni hanno a disposizione un elemento importante che è quello della caratterizzazione ambientale dei propri interventi che potrà rappresentare un utile modello anche per le altre concessioni balneari. Quindi abbiamo creato medesime condizioni per tutti gli stabilimenti balneari che insistono sull'uscita di Pescara. In particolare quelle che stanno dentro la riserva si avvarranno di tecniche particolarmente innovative anche nella realizzazione delle proprie infrastrutture in maniera tale che davvero l'essere dentro la riserva rappresenti una valorizzazione e non una penalizzazione come è stato sino ad oggi.